Oggi 16 aprile 2017, la Santa Pasqua, da parte mia volevo mandare tanti auguri a tutto il mio popolo, a tutte le persone di Facebook che mi seguono da anni, ma in primis volevo mandare tanti auguri a tutte quelle persone che soffrono, per tutte quelle persone che stanno rinchiusi negli ospedali e volevo mandare tanti auguri a tutti i detenuti del mondo, sia della parte femminile che della parte maschile e io vi vado a dedicare questo brano per tutti i detenuti del mondo. e ten compagni, se sanno da gasta, che figli mi ezzami, ma quando arrivo su, se sciocche sta bucì e quando cosa pensano, che avanti si sa iutano, o di un bel lente nuvo mai passà. e ten compagni, se sanno da gasta, che si sa iutano, o di un bel lente nuvo mai passà. e ten compagni, se sanno da gasta, che si sa iutano, o di un bel lente nuvo mai passà. e ten compagni, se sanno da gasta, che si sa iutano, o di un bel lente nuvo mai passà. e ten compagni, se sanno da gasta, che si sa iutano, o di un bel lente nuvo mai passà. e se sanno da gasta, che si sa iutano, o di un bel lente nuvo mai passà.